La serata delle sorprese. Hai capito? Ecco, non sarà l'unica. A Carezzo ormai io mi sono affezionato, fa parte della famiglia, carino, è morbido. Non volano far farmi, non sto più nella bella. Sorpresa, è la serata delle sorprese in maschera, è la serata dei parenti, sia in pista ma anche sui tavolini. Tante domande, anche un giallo. Ma dove è finito Antonio Caprarica? Rosanna, una domanda, ma dov'è Caprarica? Ah no, io non lo so, non lo so, no, non ho idea. La vita dei tavolini. Scomodissima, ma dov'è Caprarica? Eh non lo so. Ho sentito che la Luginusin sta per arrivare. Sta qua, si è nascosto. Ah, si è ritirato. Antonio sta guardando la puntata da casa perché si sta riposando la sua anca. Ma da casa dove? Alle Bahamas? Alle Bahamas, magari no, da Lugano. Chi sono io questa sera? Un po' Patti Bravo, un po' Rapunzel. Eh la gatta, la gatta. Eh, lei è The Cat. E te? The Cat, wow. Eh io penso sullo sfigatello di Batman. A graffi? Non volano far farmi, non sto più. Come sta riprendendo? Tutte i glamour, tutti i figli. Ma hai notato la differenza? Lei è bellissima, guarda. Tutti so fighi stasera. Eh? Queste sono le calze contro la trombosi. No, non lo so che so, però... Ragazzi, voi mi lasciate qua con sto matto che mi intervista. Sono la 5 in la maniera, non mi ha dormito in nada. Sono due anni che invitiamo Stefano De Martino, ma non vuole mai venire a citofonare, nonostante lui vada in onda su Rai 2, perché? Non lo so, non lo so, deve esserci un problema col telefono. Eppure la stessa resta. Che ti devo dire? Non lo so perché questa cosa. Vengo, vengo, vengo. Eliminato Giovanni Terzi. Attenzione, momento shock. Giovanni Terzi rientra in gara, salvato, appunto, da Simone Di Pasquale e Sara Di Baira. Vergogna! Non doveva essere ripensato. Vergogna! Vergogna! Non doveva essere ripensato. Ma lo lascia stare!